Ciao, sono Vlatlena e vi presento una nuova storia originale sul mio canale Una storia d'amore. E prima di guardare, iscriviti e lascio un mi piace. Sì, aveva appeso il suo asciugamano sul termosifone in cucina, ma l'aveva lavato, quindi non era sporco affatto. La nuora non permetteva di usare la lavatrice. Pensava che i vestiti di signora Eugenia fossero troppo sporchi e puzzolenti. Quindi la vecchia signora li lavava a mano. Naturalmente, poi le faceva male la schiena. Ma cosa poteva fare? Non voleva litigare con Galina. Signora Eugenia, mi sentite? O state facendo finta di essere sorda? Certo, sai come fare. Fai le tue cose e stai tranquilla, come se nulla fosse. Oh, perché questa punizione per me? La nuora tacque. Signora Eugenia sospirò di sollievo. Se non era entrata nella stanza della suocera, la tempesta era passata. La cosa più importante era non andare ora in cucina, per evitare di finire sotto il suo cattivo umore, e domani la nuora avrebbe trovato un altro motivo per lamentarsi. Ma almeno non l'avrebbe rimproverata per i panni sporchi. Signora Eugenia sospirò di nuovo, ma questa volta con amarezza. Se solo avesse saputo che sarebbe stato così, non avrebbe mai accettato di vendere il suo piccolo appartamento e trasferirsi a vivere con suo figlio. Inizialmente non aveva nemmeno voluto trasferirsi, ma suo figlio Igor era venuto da lei con una conversazione seria. Mamma, capisci? È un'offerta molto vantaggiosa. Non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità. L'appartamento lì è molto grande, c'è spazio per tutti. Avrai una stanza separata, e anche noi. Se avremo un bambino, avrà la sua camera da letto, e la cucina è molto più grande lì. Ma potremo permettercelo solo se vendi il tuo. Capisci? Mamma, è un'idea meravigliosa, vero? Signora Eugenia non poteva rifiutare al suo unico figlio. La guardava con uno sguardo così triste. Si era sposato tre anni fa e viveva con sua moglie in un appartamento in affitto. Stavano risparmiando per una loro casa. Come avrebbe potuto dire di no a Igor se desiderava così tanto comprare una bella casa? La sua piccola stanza non gli sarebbe servita comunque quando non ci fosse più. Quindi, che goda della sua casa ora? Ma cosa nascondere? Signora Eugenia voleva vivere con persone che si sarebbero presi cura di lei. Tuttavia, la vecchia signora non si aspettava che tutto cambiasse quando suo figlio avrebbe comprato la casa. No, da parte sua tutto era andato bene. Ma la nuora si era trasformata in un'arpia. Peggiorava anche il fatto che suo figlio lavorava a turni. Non era a casa per tre mesi. Poi tornava a casa per un mese. E per un mese, Galina si trattenne. Ma poi, per tre mesi interi, si sfogò completamente su sua suocera. Gridava e si lamentava per ogni piccola cosa. Sembrava che signora Eugenia dovesse rimanere nella sua stanza per tutto il tempo in quei tre mesi. Allora Galina sarebbe stata tranquilla. Ma signora Eugenia toccava nutrire, abbeverare, lavare e sopportare la sua presenza costante. Galina non poteva neanche invitare le sue amiche. Lo diceva chiaramente alla suocera. Non posso invitare nessuno a casa. È scomodo per me. Tu sei costantemente nei miei piedi. E appendi i tuoi panni ovunque. I miei ospiti penseranno che ho una baraccopoli qui. È un incubo. Nessuna vita personale. Galina si lamentava costantemente. E signora Eugenia aveva quasi voglia di dirle che sarebbe stato meglio se Galina avesse risolto i problemi della sua famiglia invece di pensare alla vita personale. Quando Igor tornava a casa dal lavoro a turni, sua moglie lo accoglieva con gioia. Ma erano i suoi soldi che le interessavano di più dei suoi sentimenti. Igor non lo notava. Ma signora Eugenia vedeva tutto da parte. Le faceva male per suo figlio. Ma non gli diceva nulla. Non voleva creare discordia in famiglia. E la nuora non voleva avere un figlio proprio a causa del fatto che questo avrebbe privato la sua vita personale. Ma Igor non lo capiva. Signora Eugenia capiva che la nuora cercava costantemente di provocarla. Voleva solo litigare con lei. Per poi lamentarsi con suo marito della madre negligente e inutile. E la sua rabbia era dovuta al fatto che sapeva che a sua suocera non restava altro posto dove andare. Era già tardi. Signora Eugenia sentì che aveva molto fame. Mangiava solo al mattino. E di giorno Galina urlava contro di lei. Signora Eugenia non pranzava né cenava. Ma ora pensò che avrebbe potuto fare uno spuntino. L'appartamento era silenzioso. Quindi la nuora stava già riposando. Bene, poteva uscire dal suo rifugio. Signora Eugenia uscì lentamente dalla sua stanza e si diresse verso la cucina. Aprì il frigorifero e prese un pezzo di salame. Al tatto, trovò un pezzo di pane. Non volle accendere la luce, quindi si spostò vicino alla finestra. La luce della lampada da strada illuminava sufficientemente il davanzale. Signora Eugenia prese un piccolo pezzo di salame. E poi la luce si accese in cucina. Dall'imprevisto, la donna anziana lasciò cadere il pezzo di pane. Ah, ecco come ti ho beccato sul fatto. E cosa stai facendo qui di notte? Dio mio, cosa hai combinato? Questo salame non avresti dovuto toccarlo. L'ho comprato per il mio capo. È costosissimo. E tu hai pensato di mangiarlo? B, non sono una sciocca. Chi ti ha insegnato a prendere qualcosa senza chiedere? Sei diventata completamente priva di cervello. Non solo vivi nel nostro appartamento a nostre spese, ma hai anche deciso di fare scherzi a me. Per cosa mi punisco così? Perché devo sopportare tutto questo? L'amore era in preda all'ira. E qui signora Eugenia non riuscì a trattenersi. Come puoi dire queste cose? Galina? Cosa ho fatto di male per meritare questo trattamento da parte tua? Hai dimenticato che ho venduto la mia casa in modo che tu e Igor poteste comprare una vostra casa? Mi hai privato del mio angolo personale a causa vostra. E tu ancora mi rimproveri per il fatto che vivo con voi. E secondo te, dove dovrei vivere se non ho più nulla? Dovrei andare per strada? E che significa vivere a spese vostre? Se praticamente vi do tutto il mio denaro? Hai dimenticato anche questo? E non avevo intenzione di fare scherzi. Non l'ho mai fatto e non avrei mai voluto farlo. Come potevo sapere che non si poteva toccare il salame? Non c'era scritto nulla su di esso. Chi sei tu per chiamarmi così? Galina? Non hai alcuna coscienza. A questo punto, Galina esplose come un vulcano. Oh, quindi è così? Ecco come parli, vecchia. Quindi questa è la tua gratitudine nei nostri confronti per averti ospitata. Sì, sì, non mi guardare così. È stata un'ospitalità. Quindi la casa non era tua. Era l'eredità di Igor. In realtà, voleva solo cacciarti. Sono stata io a convincerlo a non farlo. Pensavo che saresti stata grata. Ringraziami per non averti buttata per strada. Avrebbe potuto semplicemente prendere l'appartamento e sbarazzarsi di te. E noi ti abbiamo preso per compassione. Abbiamo riscaldato un serpente sul petto, a quanto pare. Orrore. E questa madre, come si chiama? Così tanto rancore. Così tanto odio. Così tanto disagio. Signora Eugenia rimase scioccata. Non sapeva nemmeno cosa rispondere. Come suo figlio poteva semplicemente volerla cacciare per strada? Come poteva essere possibile che i figli si sbarazzassero dei genitori indifesi in questo modo? Non poteva crederci. Cosa vuol dire volerlo cacciare? Mormorò. Galina capì che le sue parole avevano raggiunto il loro obiettivo e iniziò a dire cose ancora più spiacevoli. Sì, cacciarla. Semplicemente sbarazzarsene dall'appartamento. Non ci avrebbe nemmeno detto dove viviamo. Non l'avresti mai trovata. Sei una vecchia miserabile e inutile. Non sei necessaria a nessuno. Perfino tuo figlio voleva liberarsene. Sospetto che anche il padre di Igor sia semplicemente scappato da voi. E tu hai mentito a tuo figlio per tutta la vita. Gli hai detto che ti ha semplicemente abbandonata. Sono tutte bugie. E Igor sospettava di questo. Semplicemente non te lo diceva. Per questo si è sempre arrabbiato con te. Credeva che tu fossi responsabile del fatto che sia cresciuto senza un padre. In un impeto di rabbia, Galina nemmeno si rese conto che stava parlando a sua suocera con il tu. Espresse il suo pensiero e si zitti, respirando pesantemente dalla rabbia e dallo sdegno. Signora Eugenia rimase immobile. Il suo viso era come una maschera di cera. Rimase lì. Per un paio di minuti ci fu un silenzio teso. E poi signora Eugenia disse a bassa voce. Se non sono necessaria a lui, allora devo andarmene. Non sapevo che fosse così. Non sapevo che si arrabbiava con me. E tutte queste cose che dice sono false. Perché non mi ha mai chiesto niente? Non lo capisco. Se sono un peso così, me ne andrò. Non posso più rimanere qui. Me ne andrò subito. Signora Eugenia si avviò, inciampando, verso la sua stanza. Lei impiegò dieci minuti a raccogliere le sue cose. Ce n'era davvero poche, solo vestiti. Tutti gli altri oggetti erano rimasti nell'appartamento che suo figlio aveva venduto. Che terrore ritrovarsi in una situazione del genere. Alla vecchiaia, sembrava che nessuno avesse bisogno di lei. Persino suo figlio si era allontanato da lei. E lei non ne aveva nemmeno sospettato. Signora Eugenia uscì nel corridoio. La nuora era seduta in cucina. Guardò la suocera per un momento. Poi rimase in piedi davanti alla porta d'ingresso. Poi la aprì e uscì. La porta si chiuse dietro di lei. Signora Eugenia rimase nel corridoio. Erano quasi le dodici di notte. Cosa stava facendo? Dove avrebbe potuto andare così tardi di notte? Non aveva nessuno. Non aveva più amici, né parenti. Cosa avrebbe dovuto fare? Andare in polizia? Ma cosa avrebbe detto? Che suo figlio e sua nuora l'avevano cacciata? No, no, non poteva umiliarsi in quel modo. Rimase lì, con la testa abbassata e la borsa con le sue cose in mano. E poi sentì dei passi sulla scala. Oh, signora Eugenia, cosa fate qui così tardi e da sola? È successo qualcosa? Avete bisogno di aiuto? O forse dovrei chiamare qualcuno per vostra nuora? Era Nadia, la vicina di sopra. Questa donna era così gentile e piacevole. Salutava sempre la vecchia signora. A volte chiacchieravano per strada quando si incontravano. E Nadia aveva sempre una parola gentile per signora Eugenia. Sorrideva sempre e offriva il suo aiuto. E mai la vecchia aveva sentito Nadia parlare male di qualcuno o offenderla. Si comportava in modo educato e delicato. Questa era la nuora che signora Eugenia avrebbe dovuto avere. Questa era la moglie che suo figlio avrebbe dovuto sposare. Questa era la donna che avrebbe dovuto essere la vera padrona di casa nell'appartamento. E Galina, invece, era una megera, una cagna arrabbiata. Non amava nessuno. Si considerava l'unica persona importante, mentre gli altri erano solo pedine e servi. Signora Eugenia guardò Nadia e non riuscì a dire niente. Nadia si preoccupò. Ma cosa è successo? Non capisco. Vi sentite male? Forse dovrei bussare alla porta e far venire Galina. Lei vi aiuterà. È la vostra nuora. Non so nemmeno qual è il vostro problema. Come posso aiutarvi? Nadia stava per bussare alla porta quando signora Eugenia le prese la mano. No, cara, non è necessario. Io. E la vecchia signora scoppiò in un pianto amaro. A quel punto, Nadia capì che si trattava di una situazione straordinaria. Prese la mano della signora anziana e la condusse con sé. Va bene, venite su da me. Sto tornando solo dal lavoro. Ora preparerò del tè. Ho dei dolcetti. Vi calmerete e mi racconterete tutto, se vorrete. E se non vorrete parlare? Pazienza. Comunque non vi lascerò sola qui. Signora Eugenia raccontò tutto a Nadia. Non poteva più tacere di fronte a tanta ingiustizia. Nadia era molto arrabbiata. Non capiva come si potesse trattare così una persona anziana. Alcune volte aveva addirittura pensato di andare da Galina e farle una ramanzina. Ma la vecchia signora le aveva pregato di non farlo. Non voleva avere più niente a che fare con la nuora. Hanno parlato a lungo. Signora Eugenia ha raccontato tutto a Nadia. All'inizio temeva di fare qualcosa di sbagliato. Ma poi si è abituata. E lei e Nadia si capivano a metà parola. La vecchia signora non usciva più dall'appartamento. La vecchia signora stava spesso sul balcone, respirando l'aria fresca. Per questo motivo Galina non sapeva che sua suocera ora viveva al piano di sopra. E Nadia non disse nulla alla vicina di casa. Smetteva solo di salutarla. Galina all'inizio fu sorpresa che la vicina non rispondesse ai suoi saluti. Poi pensò che Nadia fosse semplicemente una donna pazza. A Igor Galina non disse che sua madre era andata via. Ma un mese dopo, Igor tornò a casa. Allora Galina organizzò uno spettacolo. Piangendo, raccontò che sua madre aveva organizzato uno scandalo lì. Che insultava Galina e Igor. Gridava che quella era la sua casa, che odiava tutti. Immagina, ha iniziato a accusarci di aver rubato i suoi beni. Che lei non voleva vendere l'appartamento, ma l'abbiamo costretta. Mi faceva brutti scherzi tutto il tempo. Buttava via il cibo, rovinava le cose, non ci faceva dormire. Io le ero affettuosa e gentile. Lei mi urlava contro, mi insultava. Ti insultava. Diceva che vi odia, che sei stato la sua rovina per tutta la vita. Che a causa tua non si è mai più sposata. Piangevo, le chiedevo di non parlare così. Ma lei mi assaliva con i pugni. Poi ha detto che non voleva vederci più. E se ne è andata? Ha detto di non cercarla mai più. Che non vuole mai più vederci. Igor era scioccato da come sua madre potesse trattarli così. Aveva detto così tante cose terribili. Galina era molto offesa. Così è una madre. Ma Galina non sapeva che signora Eugenia viveva ancora nello stesso edificio. Pensava che la vecchia signora fosse scomparsa da qualche parte senza lasciare traccia. E che Igor non avrebbe mai saputo la verità. Ma un giorno, vedendo Igor nel corridoio, Nadia non riuscì a trattenersi. Ciao. Igor salutò cortesemente la vicina e stava per andarsene. Ciao, se non stai scherzando. Anche se qui non c'è niente da ridere. Sai solo come offendere i deboli. Rispose Nadia con amarezza. Igor si confuse. Cosa vuoi dire? Di cosa stai parlando? E Nadia raccontò a Igor tutto ciò che pensava di lui. Le disse che sua madre stava vivendo con lei. E raccontò come Galina aveva maltrattato la povera donna. Aveva rivelato tutto. Anche se aveva promesso a signora Eugenia di non farlo. Igor era semplicemente sconvolto. Ma tutto questo è falso. Non mi sono mai preso gioco di mia madre. La amo molto. Non l'ho mai accusata di ciò che dice. Da dove ha preso tutte queste cose? Nadia capì che c'era qualcosa di strano in quella famiglia. Con compassione e amarezza guardò Igor e disse. Sembra che tu debba risolvere le cose con tua moglie. Credo che sia stata lei a metterti contro tua madre. Tua madre non avrebbe potuto inventare tutte queste terribili cose da sola. È una donna equilibrata. Ed è così meravigliosa. Sono felice che sia stata con me tutto questo tempo. È terribilmente ferita da te perché crede che tutto quello che tua moglie le ha detto sia vero. E Nadia tornò a casa. Igor non cercò di vedere sua madre subito. Decise che doveva prima risolvere le cose con sua moglie. Tornò a casa, ma non fece scene. Le chiese semplicemente di prendere le sue cose e andarsene. Galina iniziò a protestare. Voleva spiegare, giustificarsi. Ma Igor le disse solo. Mia madre mi ha cresciuto da sola. Ha fatto di tutto perché diventassi una persona decente. E ci è riuscita. Non permetterò a nessuno di farle del male. Non permetterò a nessuno di prenderla in giro. E tu non sei una persona degna, se hai trattato così la mia parente. Voglio che tu te ne vada da qui e dalla mia vita. Per sempre. Non ti dirò più nulla. Tu mi conosci. Galina capì che aveva commesso un errore. Capì anche che non avrebbe potuto fare nulla al riguardo. Con rabbia disse a suo marito che avrebbe preso l'appartamento da lui. Igor le rispose. Riceverai la tua parte. Non preoccuparti. Non mi lascerò in debito con te. Ma non otterrai tutto l'appartamento. Un giorno dopo, Igor bussò alla porta dell'appartamento di Nadia. Lei gli aprì. Era pallido e abbattuto. Aveva due mazzi di fiori in mano. Uno per sua madre, l'altro per Nadia. Non posso esprimere con le parole quanto ti sono grato per aver accolto mia madre. Ho paura persino di pensare a cosa sarebbe successo a lei se non l'avessi fatto. Grazie mille, Nadia. Disse Igor e le porse un mazzo di fiori. Nadia, confusa, prese i fiori, arrossì e rispose. Non potevo fare diversamente. Sono felice che tua madre sia stata con me tutto questo tempo. Mi sembra che tu sia venuto per lei. Beh, sono davvero felice che tu e lei stiate risolvendo tutto. E sono triste che se ne stia andando. Sarà molto solitario senza di lei. Igor sorrise. Penso che mia madre sarebbe felice se venissi a trovarci. E io anche, aggiunse, arrossendo leggermente. L'incontro tra madre e figlio fu molto commovente. Entrambi piansero. Igor spiegò tutto a sua madre. Capirono che Galina aveva solo cercato di dividerli. Grazie a Nadia, la situazione si risolse nel migliore dei modi. E poteva essere molto peggio. Entrambi facevano del loro meglio per non pensarci. Signora Eugenia tornò a casa. Ora considerava Nadia come una figlia. E spesso andava a trovare Igor. E lui era felice di vedere quella donna a casa sua. Si vedeva non solo dalla sua accoglienza, ma anche dal suo volto. Igor divorziò da Galina. Vendette la macchina, aggiunse soldi e le pagò in modo che non potesse pretendere nulla. E così si concluse un altro capitolo della sua vita. E sei mesi dopo, sposò Nadia. Cosa che signora Eugenia non poteva essere più felice. Ancora di più quando scoprì che presto sarebbe diventata nonna. E ora in questa famiglia tutto era meraviglioso. Dove c'è amore e rispetto, ci sarà sempre felicità. Ci sarà sempre felicità. Portami con un like e iscriviti.